un po di siamo sempre a credito ecco gli autogol eravamo tre tre fatti e uno uno a favore ancora due tanti e almeno si nel secondo tempo sembrava molto più equilibrata che che nel primo nel primo tempo mi è sembrato avessimo noi per più tempo il predominio del gioco anche se loro in quei 5 10 minuti che l'hanno avuto comunque per la qualità che hanno ci hanno creato grattacapi nel secondo tempo sicuramente sia quando avevamo in mano noi il pallino del gioco e quando l'hanno avuto loro però sia noi che loro abbiamo creato poche qualche qualche palla vicino alla porta qua là dentro però sia da una parte che dall'altra con poca efficacia con poche occasioni sì però non ha non ha parato il portiere beh ma è oggi più che oggi sempre è il fa è la credo sia a parte qualche blackout qua e là qualche pezzo di gara però sicuramente se se adesso abbiamo i punti che abbiamo lo dobbiamo a questo tipo di di atteggiamento e di mentalità e anche oggi questo si è visto perché comunque abbiamo concesso pochissimo una squadra che ha dei valori offensivi tecnici fisici anche di conoscenza calcistica di sono giocatori bravi sono bravi e quindi per vincere queste partite chiaro che ci vuole un pizzico di buona sorte come è successo e bisogna rimanere sul pezzo e concedere poco sì sì ma infatti il primo tempo ci è sembrato un po' un delitto finire il primo tempo in parità quando l'impressione era quella di essere andati più volte vicino al secondo gol un po' per demerito nostro un po' per valutazioni arbitrali non siamo riusciti e poi dopo chiaramente nell'occasione che hanno avuto ci hanno fatto gol perché poi a loro basta anche poco eh sì è stato bravo sì sì va bene ma poi alla fine di palloni in mezzo al campo ne perdi tanti hanno messo questa palla sì bisogna far più attenzione sicuramente ma poi ripeto oggi mi sento di dire che quando giochi contro questo tipo di qualità di giocatori poi alla fine sono bravi anche loro e però come l'anno scorso vuole sempre un errore loro per decidere l'anno scorso c'è stata la stupenda rovesciata di guerra ma anche il loro centravanti che viene in aria provoca il rigore ci dà il 3 a 1 chiude la partita e vabbè se avessero tutto non sarebbero qua e comunque quando non avranno più quello saranno sicuramente in altre categorie buona parte del loro del loro gruppo il Pagnone è un giocatore forte l'abbiamo visto in Coppa Italia l'abbiamo visto oggi ha tutte le qualità ma poi sì ma sono sono giocatori che hanno eh doti sono cresciuti anche tanto dall'inizio stagione cresceranno ancora per cui è una squadra che darà noia a tanti speravamo chiaramente di stare tra le prime così vicino eh magari no però ripeto siamo là con tanti problemi con tante difficoltà con la forza veramente del gruppo è forza mentale di dare continuità ed è quello che stiamo facendo in queste ultime partite è un segnale è un segnale importante poi abbiamo tante cose dove possiamo e dobbiamo migliorare singolarmente di gruppo tante tanti giocatori che purtroppo dobbiamo ancora integrare perché per acciacchi e infortuni ne abbiamo fuori tanti adesso dobbiamo fare i conti domani mattina e poi prepararci a una trasferta scoprirete no di quelli che hanno fatto si si squalificato Salinas vabbè 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 anche lui come i ragazzi della juve è un giovane che ha delle potenzialità importanti a qualche limite da a qualche qualità da da migliorare quest'anno sta arrivando con più continuità rispetto allo scorso anno sta svolgendo anche un lavoro importante in fase di spinta quindi è questa forse l'unica lacuna che gli manca per crescere definitivamente e diventare un giocatore appetito anche alla serie b perché per il resto è un vecchio che gioca il 2001 vecchio che gioca in campo poi anche oggi è chiaro che non possiamo raffrontarci alla juve però avevamo tanti giovani anche oggi in campo e quindi l'unica non aveva neanche un burmita si l'hanno fatto entrare l'hanno fatto entrare Jocolano Poli non c'era Raffi era fuori ne hanno solamente due o tre quest'anno perché sono comunque forti mi colpisce sempre di più Musatti perché fa 5 minuti però entra con personalità è perché è un ragazzo che ha che ha sfacciato lo speriamo nel senso ha sicuramente dei meriti importanti perché comunque sta continuando a lavorare sta crescendo tanto sono contento di dargli un po' di spazio perché se lo merita e dimostra di saperselo e di meritarselo poi è anche vero che Zennaro oggi ha fatto una gran partita Ergeligio anche di Molfetta sta tornando Balestrero non è facile nel nostro centrocampo trovare spazio però è un 2003 è nostro e si sta ripeto dimostrando di avere anche d'utilità perché lui in realtà è più una mezzala offensiva una mezzala di qualità oggi si è messo lì davanti alla difesa non ha avuto timore non ha avuto paura l'altro giorno per mezz'ora ha fatto il suo ampiamente anzi bene bene così eh sì sì ma perché adesso a Trieste contro l'ultima della classifica ah hanno perso a Piacenza e a Trieste ma per altri non ha mai allora vediamo di batta anche sto record no vabbè ma la Triestina non lo so cosa sinceramente cosa sta sta succedendo perché comunque i valori sono diversi è anche segno di un campionato e lo diciamo sempre molto più difficile e molto più equilibrato verso l'alto rispetto a quello dell'anno scorso detto questo comunque la Triestina ha valori diversi eh vabbè questo poi noi dobbiamo pensare a rosicchiare punti a queste squadre e dobbiamo cercare di fare meno errori possibili ma no non lo so ci sono due squadre forti poi a gennaio arriverà il mercato si rinforzeranno ancora e sono forti tutte e due e poi ci sono squadre lì con noi che sorprendono tutte le partite la il lecco noi dobbiamo cercare di continuare a fare il nostro è il dubbio che ho risolto una cosa una cosa sulla quale hai lavorato è una cosa naturale ma delle volte ti trovi anche delle situazioni già già per caratteristiche dei giocatori che magari si si combaciano di più tra di loro e bergonzia un anno in più mi viene da dire abbiamo preso il portiere forte ma poi ci dobbiamo un po' e sicuramente abbiamo degli equilibri che ci portiamo dietro dall'anno scorso da questo punto di vista poi la mentalità di una squadra che sicuramente sa che può giocarsela con tutti differenza magari dell'inizio dell'anno scorso dove era andata via tanta gente forte tanti giocatori importanti rappresentativi per cui anche chi era rimasto diceva sì vabbè però faremo quest'anno la fiducia che abbiamo è quella di potercela giocare con tutti poi serve continuità per rimanere per rimanere tra le prime abbiamo protestato sul primo rigore io e mi ha munito sul secondo rigore Ferretti ma secondo me poi in quei casi lì prendono uno a caso e mandano dentro no no ma va benissimo così condivido condivido un certo tipo di mentalità serve giocare bene serve cercare il più possibile di dominare il gioco però poi dopo quello che conta è fare un gol di più degli altri